Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, faccio questa intro perché ultimamente la mia fotocamera mi sta dando veramente dei problemi nel senso che non mi registra pezzetti di video e me ne accorgo puntualmente durante il montaggio quindi vi faccio appunto il pezzo iniziale di questo video perché altrimenti non capite il senso di tutto ciò e ho fatto un acquisto sul sito bestclay.it come ho acquistato 5 colori, quindi non è chissà chi acquisto, quindi non verrà un video lungo sul mio computer ho trovato un vecchio video, vecchi spezzoni di un video di un acquisto, dell'acquisto precedente a questo non vi avevo mai caricato e niente, lo attacco poi alla fine di questo video per farvi vedere anche questi così il video viene un pochino più lungo e non ha senza senso con solo 5 panetti detto questo vi faccio vedere i due panetti più grandi che ho acquistato perché appunto nella mia fotocamera non ha registrato del pezzo in cui ve li facevo vedere allora come primo colore ho acquistato questo qui che è il premo, il premo bianco e ho preso il panetto da 554 grammi e qua c'è il panetto comunque bianco white, forse non vedrete mai niente ho preso questo qua grande e della premo soprattutto perché prima di tutto mi trovo meglio io con la premo rispetto al fimo se volete vi faccio un video specifico in cui vi parlo delle differenze tra le varie paste polimeriche che ho provato quindi fimo, cernit, premo e scupei se vi può interessare vi faccio appunto un video in cui vi parlo appunto delle differenze tra le varie paste comunque ho acquistato il premo perché mi trovo molto meglio tra l'altro già ne ho usato il panetto e stesso motivo ho preso il panetto grande visto che non c'era della premo era appena finito e mi serviva una cosa proprio urgente ho preso il nero della fimo questa è la confezione nuova hanno cambiato sia la plastica e hanno cambiato anche la formulazione del fimo io era da un po' che non acquistavo quindi non me ne ero accorta ancora il fimo è diventato una cosa illavorabile è talmente morbido che veramente allora, io l'ho già utilizzato questo qui e purtroppo ho dovuto fare tutta una procedura tra virgolette per cercare di lavorare questo fimo perché è veramente troppo morbido troppo morbido, appiccicoso, impossibile da lavorare quindi ho dovuto fare tutta una roba per poterlo utilizzare ci sono riuscita, ci sono tantissimi video che vi spiegano come su youtube il fimo è troppo morbido e torni lavorabile che quindi non voi lo possiate utilizzare se vi interessa vi faccio il video altrimenti basta che cercate un po' qua e là e trovate tutto e per il resto dei panetti vi lascio al video ok mi si spegnerà la telecamera ovviamente più voglio fare in fretta più non ci riesco vi stavo dicendo appunto il numero del cadmio che è il 5572 e io lo utilizzo anche per fare i capellini delle due linee ovviamente schiarite quindi lo stavo finendo e l'ho ricomprato poi ho preso un panetto di lampone anche qui hanno cambiato tutto quanto tra l'altro se c'è la chiusura e l'apertura non lo sapevo comunque ho preso il numero 22 il raspberry che io utilizzo schiarito per fare appunto il rosa pastello e anche puro così per alcuni dettagli poi ho preso tre panetti di rosa carne e anche questo qua è morbidissimo non lo so se riuscirò a modellare i faccini speriamo bene e questo qua è il flashlight il numero 43 e ne ho presi tre panetti perché lo stavo per finire mi è rimasto un panettino solo e facendo così tante dolline mi serve non ho voluto prendere quello grande perché ancora devo capire quanto ne utilizzo ancora non ne sono del tutto sicura e poi ho preso una novità della Fimo Effect ho preso il numero 14 il translucent white quindi il bianco translucent perché voglio iniziare a fare sia i vestiti che i capelli delle dolline elastici in modo che non ci sia più il rischio che si rompano che si spezzino e via eccetera eccetera ne ho presi tre appunto per provarlo e vedere un pochino come mi trovo e appunto fare questo esperimento e poi voglio fare anche dei cammei decorati con i palesaggi e niente ragazzi video velocissimo vi metto subito dopo sempre un video acquisti del Fimo anche se è un pochino vecchio ma almeno allungo un pochino il video e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazze buongiorno a tutti allora nuovo video questo sarà un altro video acquisti infatti mi è arrivato questo scatolino con dentro alcuni panetti di Fimo e Premo perché ultimamente sto iniziando appunto ad usare di più il Premo perché mi piace un pochino di più rispetto al Fimo Soft e in più ho utilizzato c'era la promozione sul Fimo Classic quindi ho preso anche due panetti di Fimo Classic di colori che non avevo mai utilizzato e quindi adesso vi faccio vedere un po' che cosa ho preso allora primo colore ho preso questo qui il Fuxia della Fimo Soft il numero 22 questo qui perché lo utilizzo tantissimo e l'avevo finito poi ho preso un altro panetto di color prugna questo praticamente lo compro sempre perché lo utilizzo un sacco che voi vedete però blu ma è il numero 63 il prugna appunto e questo qui è l'unica cosa che è un po' duro e la cosa mi fa un po' girare le scatole però riusciremo comunque ad utilizzarlo poi ho preso tre panetti adesso voi ne vedete due perché uno l'ho già usato e finito due panetti di rosso sempre della Fimo Soft il numero 24 ed è precisamente linea red e questo è molto morbido si vede che il viola ce l'avevano da un po' comunque questo è molto morbido appunto l'ho già utilizzato per le creazioni di Natale poi ho preso tre panetti di color carne numero 43 sempre Fimo Soft ed è esattamente il flashlight del colore carne e questo qui io lo finisco praticamente in pochissimo un po' come il bianco visto che faccio parecchie dolline e quindi mi ho fatta scorta poi come vi dicevo ho preso due panetti di Fimo Classic durissimo allucinante però va bene ho preso questo blu scuro che è il numero 34 il blu marino si ed è questo bellissimo blu scuro ve lo vedete un pochino più chiaro di quello che è ma in realtà è abbastanza scuro e non l'avevo mai avuto mai usato intanto mi arrivano i messaggi non l'avevo mai utilizzato quindi appunto l'ho preso anche perché stava un euro e 55 quindi poi ho preso solo due colori e un euro e 55 perché gli altri sinceramente non mi interessavano o non mi piacevano poi ho preso questo qui che anche questo non l'avevo mai utilizzato sempre di Fimo Classic il numero 74 ed è il terracotta mai provato mai utilizzato e mi piace molto come colore e vedremo un po' che cosa che cosa farci anche se è durissimo veramente durissimo poi poi passiamo al premo allora come premo ho preso un altro panetto di ecru perché va via come il pane soprattutto facendo i dolcetti ed è il numero è il numero 50 93 non si vede nulla comunque il il premo è cru molto 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 mi trovo stra bene con questo colore soprattutto per fare i dolcetti perché praticamente lo uso così com'è ogni tanto lo scurisco un po' però fondamentalmente lo uso così com'è poi poi ho preso un panetto di premo nero proprio perché voglio iniziare a usare praticamente solo il premo visto che mi trovo molto meglio che è appunto questo qui il numero 5042 se non mi sbaglio comunque nero molto morbido anche questo poi ho preso un panetto di oro questo qui molto molto bello questo qui è della linea il numero 5303 possibile comunque è l'oro il semplicissimo molto morbido poi ho preso il questo qui non vedo di utilizzarlo questo bellissimo verde oliva vi faccio vedere la differenza con il verde foglia della Fimo per sostituire il verde foglia della Fimo Classic che è il numero aiuto 57 e praticamente sono lo stesso identico colore cioè non non c'è una grande differenza forse quello della Fimo Classic è un leggermente più acceso però fondamentalmente sono lo stesso coloro lo sto utilizzando per i vestiti di Trilli e per altre cosine e quindi appunto per sostituirlo visto che questo qua è durissimo non si riesce quasi ad utilizzare ho voluto prendere il Fimo e devo dire che sembra molto molto più morbido quindi spero di trovarmi molto meglio e questo qui non so se ve l'ho detto è il numero 5007 credo numero 5007 appunto è un verde oliva molto molto bello e poi come ultimo ho preso questo qui che non l'avevo mai utilizzato questo colore ed è il Tarra di Siena numero 5382 se non mi sbaglio comunque è questo bellissimo colore e niente ragazze questo qui appunto è il mio ultimo acquisto di Fimo non vedo l'ora di utilizzare questi colori nuovi per fare qualcosina di carino di nuovo e o niente come al solito vi lascio giù nell'info box il link della mia pagina facebook se volete andare a vedere a dare un'occhiata alle mie creazioni e o niente vi saluto vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao